Gian Guido D'Alberto oggi conferenza stampa di Dodo di Sabatino Martina per dire che entrerà in giunta. In questa giunta Brucchi Quater è il PD che dice, visto che lo stesso Dodo ha riservato delle critiche al PD di Teramo proprio oggi. Dire che si entra in una giunta per salvare la patria quando in passato si è detto che questa stessa giunta non è una giunta di qualità, è un atto assolutamente privo di coerenza ed è un atto inaccettabile sotto l'aspetto etico prima che politico. Ripeto, in una situazione in cui andiamo a incrementare il numero degli assessori con l'aumento dei costi in una situazione di piena emergenza e di grave dissesto finanziario. Dissesto finanziario che vorrei ricordare è un dissesto finanziario che non nasce oggi ma nasce da scelte politiche di almeno un decennio del quale lo stesso assessore di Sabatino era parte, è stato parte perché è già assessore al bilancio nel Brucchi 1.